Sindaco, oggi possiamo dire che qui a Sant'Andrea si sono incontrate due generazioni? Allora, sì, possiamo dire tre generazioni, allora, perché c'è anche la mia di generazione, che è una generazione di mezza età. Oggi c'è stato il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha portato un po' di entusiasmo, un po' di allegria e sicuramente anche un po' di compagnia a questo ambiente. È un aspetto che credo necessiti di compagnia, necessiti di simpatia, e quindi abbiamo voluto affrontare questa iniziativa assieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi. Dal sindaco al sindaco dei Ragazzi, perché è una seduta di Consiglio Comunale all'Istituzione Sant'Andrea? Siamo venuti qui per far conoscere anche a questi anziani, come è il mondo all'esterno, visto anche politicamente, e volevamo coinvolgere in questa seduta anche loro, per tenerli anche molta compagnia e non farli sentire soli. Oggi il Consiglio Ragazzi dell'Istituzione Sant'Andrea, quali sono le altre attività e iniziative che sta portando avanti in questo periodo? Alle linee programmatiche di governo sono state aggiunte altre proposte, tra queste la possibilità di realizzare un evento per premiare tutti gli allievi meritevoli di questo istituto, nello sci di fondo e nelle gare di atletica, che sono state proposte dai giochi della gioventù. Nello stesso tempo l'acquisto di alcuni computer e poi ci sarà una giornata ecologica, un intervento presso la televisione New Bergamo, un programma multimediale ed inoltre la visita alla Sua Eccellenza Monsignor Capovilla. In ultimo, già che abbiamo già realizzato, la visita al Senato della Repubblica il 24 febbraio 2010, insieme alle altre linee che già sono state svolte. Questa è un'iniziativa che si ripete ogni anno? Qual è soprattutto l'aspetto positivo di questi incontri? Prima di tutto perché permette agli anziani di avere un contatto fisico con una realtà di giovani a cui loro tengono molto, partecipano molto numerosi. Poi secondariamente è molto importante per i ragazzi perché, l'abbiamo visto oggi nelle domande, uno solo di questi aveva avuto la possibilità di avere un anziano ospite della casa di poso e conoscere questa realtà. Per noi è importante che già a livello di giovanile si conosca questa realtà che è molto importante per Clusone. Abbiamo fatto vedere un po' anche la struttura, abbiamo spiegato quali sono i servizi che attualmente la società fa e allora questo permette a questo piccolo consiglio comunale dei ragazzi di farsi un'idea di quello che è la realtà sociosanitaria del comune di Clusone.